Violenta rissa tra quattro cittadini stranieri nel cuore del centro storico Aretino questa notte. Ad avere la peggio sono stati tre cittadini bengalesi finiti in ospedale. Una quarta persona, un filippino invece, è riuscito a darsi alla fuga. È successo pochi minuti dopo l'1.30 in via Madonna del Prato. Ancora non si conoscono le cause della rissa. Sulla vicenda stanno infatti indagando i carabinieri che stanno cercando di chiarire i contorni del violento episodio. Gli animi si sono scaldati nel cuore della notte al punto che si è reso necessario l'intervento sul posto delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118. Tre persone sono state così portate in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di tre cittadini bengalesi, il più grande ha 34 anni, mentre il più giovane ne ha 21. Tutti e tre hanno riportato lievi ferite, alcuni graffi ed escorazioni riconducibili ad un'arma da taglio. Una quarta persona coinvolta anch'essa nella rissa invece si è data alla fuga subito dopo l'arrivo dei soccorsi e dei carabinieri. È stata comunque identificata, si tratta di un cittadino filippino che con sé avrebbe avuto un coltello, come confermano le ferite riportate dai tre uomini soccorsi. Ed è proprio su quest'ultimo dettaglio che si stanno concentrando le indagini dei militari dell'arma che stanno cercando di far chiarezza sull'episodio.